Ciao da famiglia Albanese Sorrentino, migliori in campo I Dam vincono contro i 7-8 La prima della classe Insomma se ne va Speriamo, speriamo bene 9 punti di stacco 9 punti, non lo sapevo 9 punti sono abbastanza, quante partite mancano? Poche quindi Ci siamo quasi Senti Mario, la partita come ce la vuoi raccontare? Cioè se ce la vuoi raccontare come è andata? È stata una partita abbastanza equilibrata Diciamo noi era Già mancava il perno, tra virgolette Uno dei perni principali che è il portiere Come è stato sostituito? Il grandissimo Luca Cerasula in porta Ti è piaciuto? Ha fatto un paio di parate, però per i destri Cioè ha giocato abbastanza bene Il tuo compagno Sorrentino Allora Sorrentino ha fatto una grande partita Infatti ci ha fatto, perdevamo 2-0 e ci ha fatto recuperare lui la partita Una punizione, un calcio d'angolo Che il portiere loro ha buttato in porta Un po' di bucce di banana E comunque senza Fabio Rico voglio precisare Non abbiamo pensato una partita Fabio, abbiamo giocato Questo è un messaggio chiaro a Fabio Rico Abbiamo giocato palla a te Questo è un messaggio chiaro al vostro 1-10 Insomma, può stare a casa Insomma Sì, purtroppo dal 15 gennaio non era Aia, forse non vi farete trovare voi Non lo chiamate in un altro giorno E invece Sorrentino, due parole su questa partita Ti è piaciuta la squadra di D'Ambo? Come funziona? Sì, è piaciuta anche Che loro giocano da una vita Quindi comunque conosco l'ambiente, l'organico è positivo Senti, gli avversari invece come le vissi? No, c'erano due o tre ragazzi E piacevano Giocavano palla a terra Alzavano la testa Cambi di fascia Mi piaceva Quindi una bella partita Tutto sommato Sì, no, su questo sì Una bella partita Mi è piaciuta Va bene, grazie ragazzi Ciao